Gianluca Codognone, Managing Director of Best Invest Securities. Buon pomeriggio e grazie mille per essere con noi. Buon pomeriggio. Proprio in questa giornata è estremamente interessante per i mercati e per più motivi ovviamente. Noi iniziamo con l'inflazione, abbiamo iniziato insieme a te questo discorso già da un bel po' di tempo e dunque l'inflazione non soltanto negli Stati Uniti ma anche in Germania, in Cina, quasi ormai ovunque, si conferma elevata anche se per la maggior parte delle volte in linea con le attesi. Ti chiedo un commento in particolar modo per quanto concerne ovviamente i numeri degli Stati Uniti e soprattutto se ti disturbano in qualche modo. Diciamo che l'ultima volta che ci eravamo visti era a ottobre all'inizio e si vedevano già tutte queste tendenze infrazionistiche, noi per quello abbiamo preso una stance non esattamente bulli sui mercati azionali che da quel momento lì sono saliti del 6-7%, quindi per adesso abbiamo torto. Mentre i bonds sono in questo momento allo stesso livello, poi oggi stanno scendendo, però hanno fatto un su e giù dei rendimenti ma sono essenzialmente fermi al livello al quale erano il primo ottobre, mentre inflazione è salita. Diciamo se si guardano al di là dei dati di mese su mese che sono quello che si vede, cioè 6-6,2% negli Stati Uniti, 4-6 il cuore, anche in Europa il second reading che hanno pubblicato oggi, perché oggi era il second print del CPI europeo, comunque è stato confermato al 4-6, quello tedesco diciamo. Se si guardano tutti questi dati e soprattutto si guardano gli indici di livello che sono per esempio gli indici che pubblicano gli americani per pagare le cellule ai tips, cioè ai bonds, ai tips, si vede che tutta questa cosa, questa diciamo, questo discorso della temporaneità non c'è da nessuna parte, a parte nella bocca dei politici e anche dei banchieri centrali come Leila Brainer. Quindi sembra proprio una stance ideologica e credo che finché quella di dire che è tutto temporaneo e credo che guardando anche le curve forward di tante materie prime, del gas, di tante cose non si vede scendere niente fino a aprile del 2022. Quindi io credo che, non so che dire, nel senso ne parlavo prima anche con un po' di clienti che fanno, credano la macro, è veramente strano. Innanzitutto volevo capire se forse è mal interpretato il discorso e anche l'argomentazione delle banche centrali sulla transitorietà o forse bisogna rivedere la definizione della transitorietà perché magari uno si immagina un evento non più lungo di 12 mesi magari o 6 mesi, 12 mesi, insomma il medio termine, però ovviamente qua si tratta comunque di un periodo di tempo più lungo rispetto ai 12 mesi. Non lo so qual è invece la vostra interpretazione della transitorietà insomma. La mia interpretazione è che ci sono dei numeri. I tassi sono a zero e l'inflazione è in Europa al 4, al 3, al 4 e in America al 6. Non so cos'altro bisogna fare e ci sono dei discorsi abbastanza allucinanti del tipo, ah ma si alzano i tassi, questa è una crisi supply, è una crisi sulla supply, è sempre una crisi sulla supply quando la domanda è molto più alta, quindi non capisco. E l'altra cosa devo dire, nell'ultima speech la Lagarde è stata brava perché al contrario degli Stati Uniti di Power, lei ha detto delle cose diverse questa volta, ha detto guardate noi non alziamo i tassi non perché tolleriamo l'inflazione più alta che vediamo adesso, ma perché pensiamo che sia transitorio e pensiamo che il mercato nel stimare l'inflazione a 5 anni sbagli, lei dice pensiamo che sbagli, adesso è sopra il 2 l'inflazione e quindi è entrato quell'ultimo trigger che avrebbe dovuto far alzare i tassi all'ICB, cioè è sopra il 2 oltre il 2023. Lei dice io penso che il mercato sbagli, ma se mi accorgo che sbaglio io alziamo i tassi, quindi la Lagarde in questo ha ancorato le aspettative di inflazione perché dice io penso che il mercato sbaglia, ma se mi accorgo di sbagliare io alzo i tassi e più o meno si è capito che questo succederà entro gennaio febbraio marzo dell'anno prossimo, cioè se non si vedono segnali di rallentamento dell'inflazione l'ICB prenderà provvedimenti. Gli Stati Uniti non so cosa faranno. non capisco, parlano di maximum employment eccetera eccetera e hanno l'inflazione a 6 e si vede che gli va bene così. Io credo che non finirà bene se continua così. Per quanto riguarda la BCE forse, anche perché diversi membri ovviamente del board esecutivo della BCE dicono che forse la Banca Centrale Europea presto raggiungerà il proprio obiettivo di inflazione del 2% di medio termine, però un possibile rialzo dei tassi di interesse non sarebbe così negativo specie per il comparto bancario o meno? No certo, poi i tassi sono a zero, ricordiamoci anche questo, non è che sono proprio a zero e quindi con gli ufficiali. E quindi è anche tutta la curva. Poi c'è anche un problema di livello di tutta la curva. Secondo me per avere azione e restrizione sulla domanda e quindi per far scendere l'inflazione si deve alzare tutta la curva, perché se alzi la parte a breve e la parte a lunga, la si inverte, non succede proprio niente. Quindi è un momento un po' strano, per adesso i mercati secondo me anche un po' narcotizzati da vent'anni di acquisti, politiche monetarie straordinarie, sono così e hanno tutti paura a vendere perché pensano che poi, come è successo negli ultimi vent'anni, i bond non sono mai scesi, a parte i momenti di crisi 2011 eccetera, e quindi c'è questa specie di comportamento strano, vediamo come finisce, se viene giù l'inflazione o salgono i tassi. E dunque infatti ultimissima domanda per quanto concerne sempre i numeri degli Stati Uniti in termini di inflazione al 6,2%, ben al di sopra delle stime delle attese che erano già al altissime, al 5,8%, bisogna iniziare a tuo avviso pensare per un possibile cambio di politica monetaria a livello di tassi di interesse e non solo tapering o meno? Allora qui è un po' complicato perché anche per una banca centrale vedere che quando escono questi, ci sono questi print di tassi di inflazione, i bond non si muovono, cioè è difficile, io capisco che sia difficile per un banchiere centrale muoversi lui, e quindi non so, però ripeto, secondo me la differenza adesso e se si guarda poi è anche il core che si muove, ma non è solo l'inflazione del print con dentro Food Energy, è anche il core che si sta muovendo da un bel po', come se fosse cambiato qualcosa profondamente dal giugno del 2020 in America, per cui, guarda sono un po' in difficoltà, non capisco, cioè l'America può anche permettersi di fare questo giochino per un po', fino a che però non succede qualcosa di drammatico o scende l'inflazione o magari può succedere qualcosa di drammatico sui bond e anche sul dollaro e allora lì poi hai fatto uscire dalla lampada il mostro. Infatti parlando di banchieri centrali facciamo velocemente il focus naturalmente su chi sarà il prossimo presidente della Fed o meglio, magari potrebbe semplicemente essere confermato Powell o altrimenti Leal Brainard che dovrebbe essere molto più dovish rispetto a Powell, ovviamente i repubblicani sostengono Powell, invece la parte estremamente sinistra, chiamiamola così, del Partito Democratico non vuole Powell, vuole Leal Brainard, un momento estremamente delicato per la Fed perché circa tre membri, due se ne sono già andati, un altro se ne va a fine anno e nello stesso tempo però l'amministrazione Biden dovrebbe affrontare un momento importante cioè inflazione altissima, potere d'acquisto dell'americano medio che diminuisce in maniera molto notevole e dunque agli americani piacciono i presidenti che fanno bene a livello d'economia. Ci avviciniamo anche al mid term elections, questi sono tutti i fattori da considerare, considerando tutti questi fattori che ho appena elencato, chi a tuo avviso sarà il prossimo presidente che stiamo vedendo entrambi attualmente? Se dovessi puntare dei soldi io penso che si terranno Powell, anche perché per tutta una serie di cose che tu hai elencato è delicato cambiare proprio in questo momento e perché secondo me Leal Brainard sta dimostrando con questa sua insistenza su temporaneità, la temporaneità, la temporaneità dei fattori inflattivi di essere una fortemente ideologizzata onestamente, perché di tutta questa temporaneità per adesso non si vede nulla e non ci sono neanche elementi forward per dire che sia temporaneo, per cui secondo me se mettessero una persona così potrebbe essere un problema e quindi credo si terranno Powell. E dunque se dovesse però esserci appunto la Brainard, la presenza della Fed cambia qualcosa per i mercati? Penso di sì, penso che lei ha dimostrato in tutto quello che ha detto, almeno per quello che ha detto, di essere una disposta a tollerare molto l'inflazione e questo può finire male. E dunque andiamo a vedere invece la seduta europea, in questo istante abbiamo il Fuzzi Mib attualmente a 27.566 punti a tuo avviso, adesso ovviamente da oggi a fine anno è possibile raggiungere diciamo il traguardo dei 30.000 punti e poi ovviamente abbiamo visto anche diciamo in occasione delle trimestrali di Mediaset che sono stati meglio rispetto al previsto che voi di Best Inver Securities avete mantenuto il rating hold sul titolo. Innanzitutto ti chiedo ovviamente del Fuzzi Mib e del mercato italiano e poi parliamo anche della scelta di mantenere il rating hold di Mediaset. Sì, allora diciamo che l'ultima volta che ci eravamo visti avevo detto che noi non eravamo abbastanza bearish sul mercato e da quel momento lì l'equity market, ripeto, ha fatto il 5.6 per cui adesso abbiamo torto abbastanza marcio anche, però non abbiamo partecipato l'ultima fase del rally. Per quanto riguarda quello che mi dicevi degli indici, essendo bearish prima figurati se siamo bullish adesso, non lo so cosa succede, ma non aspettiamo un rally ulteriore da qui, soprattutto con i tassi che salgono, che dovrebbero salire secondo noi. Per quanto invece riguarda Mediaset, la società ha riportato conti molto buoni, ma soprattutto ha guidato per l'anno prossimo con pubblicità che cresce e costi che rimangono flat, per cui è una forbice sui margini decisamente positiva. Poi abbiamo un hold perché in termini valutativi in questo livello di prezzo non è particolarmente attraente, però da punto di vista i conti hanno dato delle indicazioni anche per l'anno prossimo positive. Sì, sì, assolutamente sì, anche la guidance era abbastanza positiva, considerando il discorso che avevamo fatto a livello di banche centrali, ovviamente la possibilità anche di avere i tassi di interesse della BCE sopra lo zero, stiamo parlando dei tassi principali, che cosa significa ciò per il comparto bancario di Piazza Affari? Che tra le altre cose si è dimostrato molto resiliente, almeno da ciò che possiamo giudicare dalle trimestrali di Piazza Affari? Ma lì diciamo così che quando risalgono i tassi quello che conta per una banca è il cosiddetto deposit beta, cioè nel senso è come riprezzano la parte delle liabilities, perché sappiamo che la parte asset riprezza subito, dipende come riprezzano le liabilities e in questo momento il QI ha creato depositi bancari, quindi è difficile che ci sia una lotta per dei depositi, perché tutte le banche sono lunghe liquidità, quindi per quello hanno un rialzo dei tassi all'inizio, questa volta potrebbe avere un buonissimo impatto sui conti bancari, dopodiché bisogna anche vedere, ripeto come abbiamo detto già l'ultima volta, in che modo succede, perché succede, cosa succede all'economia, cosa succede, insomma le banche sono un po' un business complicato perché dipendono anche dalla qualità del credito, per cui sì si trasmettono i tassi ma non sono l'unico elemento, per esempio l'ultimo quarter tutte le banche che abbiamo visto riportare hanno tirato giù il costo del credito, hanno fatto tutte, hanno riportato tutte molto bene, ma c'è stato uno schiacciamento micidiale delle riserve per perdite su crediti, quindi bisognerà un po' vedere quando si normalizza questa cosa, cosa succede a profitti della verità delle banche. E dunque chiudiamo questa intervista con la stessa domanda dell'ultima volta, i rischi principali per i mercati, da qui a fine anno, quali sono a tuo avviso ancora l'inflazione che comunque si fa sempre più presente? Sì, tassi, c'è il rischio tassi e basta, per adesso è quello e francamente io non so dire quale può essere, cioè si è visto talmente già tanto manifestarsi l'inflazione, ma non solo quella spot, anche quella che sta appunto embedded nelle future di tutte le materie prime eccetera eccetera, per cui non saprei dire quale possa essere il catalyst, però so che un livello di tassi di questo tipo con i numeri di inflazione che stanno uscendo non è compatibile. Ottimo, grazie mille Gianluca Codagnone, Managing Director, Best Inverial Securities, grazie per essere stato con noi alla prossima occasione. Ciao, grazie.